ciao alex sonofri in questo video un pochino più colloquiale un pochino più breve più semplice voglio rispondere ad un concetto che mi avete chiesto varie volte voi mi dite è giustamente alex ma io non sono come te che sto lì comunico strong qui pam pum pim oppure non sono come quelli che dicono ciao sai oggi volevo pam 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 cioè ad alta energia mi dite ma io non sono uno che fa umorismo non sono uno che ride uno che va là che risponde alle battute e come faccio come faccio ad applicare queste cose come faccio ad essere comunque strong a risultare ok con gli altri a farmi valere a creare una vita diciamo così che sia quella che io voglio se non sono bravo a fare tutte queste cose che tu insegno che altri trainer formatori insegnano linguaggio ipnotico linguaggio non verbale essere cazzuti riberenti folli così magari sono un pochino più timido sono un pochino più pacato o pacata insomma parlo a maschile sempre per semplicità come faccio e ora io cerco di risponderti allora praticamente quello che ti offro io è un modello che ti fa ottenere dei risultati in modo abbastanza scientifico nel senso che è stato applicato da me da tanti altri che ho seguito che mi hanno dato i feedback eccetera però prima cosa non è detto che tu debba praticamente inserire tutto insieme ok intanto eviti di fare degli errori di base come ad esempio autosminuirti come ad esempio avere l'energia troppo bassa non per questo che devi spizzare schizzare in alto con l'energia va eh no nel senso però evita di stare lì di fare il pesce lesso ok poi evita di mettere di di fare quelle cose che dico nei vari video tamburellare con le dita avere una postura troppo chiusa stare troppo così un po gobboso eh oppure fare troppe domande insomma tutte quelle cose che trovi nei centinaia dei di altri miei video quindi all'inizio cerca soltanto di ridurre gli errori maggiori ok e mantieni la tua personalità poi però mentre fai questo inizia ad inserire dei piccoli elementi come ad esempio migliorare il linguaggio verbale quindi ridurre le frasi evitare troppe ripetizioni evitare troppi sì no però tutte queste cose qua intercalari e mamma è tutta questa roba qua togli un pochino di insicurezza ad esempio tenendo il corpo un pochino più rilassato rilassato però sempre con energia non rilassato capito roba simile quindi anche se non fai a ciao sai sono alex sonofri tutte queste cose qua no insomma ovviamente evita di dire alex sonofri dirto nome però allora intanto tiene il corpo un pochino più aperto rilassato ma sempre con una buona tensione di base e poi successivamente inserirai altre cose inizia ad evitare di stare sempre con le braccia concerte troppo tenere troppo le mani in tasca evita di avere il viso troppo rilassato quindi il riso anche il riso il il viso anche così normale e ora ti darò vari elementi pratici inizia a fare diciamo le frasi un po più brevi perché più facile comunicare farsi capire far arrivare un concetto e anche creare il tuo discorso le tue frasi perché se fai una frase di otto chilometri è più difficile da creare contenere rispetto a piccole frasi ok quindi tieni un tono né troppo alto ciao io sono questo comprate l'aspirapolvere no non devi fare questo come dei politici io qui papà tutta questa roba e non devi neanche dire io sono strong io oggi faremo non è anche questo qua un pochino più diciamo determinato più alfa più 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 dominante però magari inizia a tenere un tono di voce che non sia questo ciao ciao voglio dirti una cosa ha capito nel senso no tiene un volume che almeno per darti un corrispettivo preciso lo stesso volume del tuo interlocutore inizia a pronunciare bene le parole che pronunci senza smangiucchiarti tutto quello che dici capito questi sono degli elementi che vanno inseriti sempre qualsiasi sia la tua personalità anche se sei una persona timida se sei una persona riservata una persona schiva io non ti dico di avere uno sguardo così schizzato ciao come va oggi giorno api papà no e neanche di dire io ti ho visto e ti ho scelto perché oggi è il giorno del giudizio no vabbè tieni il viso rilassato ma non così cioè non ciao io volevo parlarti di una cosa così sembra che stai morendo da un momento all'altro dio a chiamate un cardiologo no tieni una postura eretta spalle indietro insomma le solite cose che ti insegna anche un tutore di base un genitore o chi per lui e praticamente inizia a eliminare quegli errori di base ok quindi tieni un tono abbastanza corposo che tu sia maschio femmina non che devi approfondirlo così no un tono però sia corposo né la voce nasale né io sono la balleria già capito questo vale sempre quindi tutti questi errori ok di linguaggio non verbale verso gli altri di base il gesticolare senza fare no no ma questa cosa 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 che trovi anche negli altri video oppure lo stare sempre così lo stare così chiudere aver paura di occupare il proprio spazio poi occupare lo spazio anche se sei timido ma il tuo spazio il tuo spazio no tipo un semicerchio così te lo occupi poi comunque come nell'ultimo video mi sembra video prima di questo pochi prima comunicare con le mani cioè spostare le mani in modo tranquillo vedi molto tranquillo anche se praticamente sei timido sei una persona riservata schiva se fai fatica a comunicare con gli altri pertanto devi comunicare quindi meglio farlo in modo opportuno ok inizia a guardare magari negli occhi le persone soprattutto quando parli quando ti parlano poi guardarle può guardare anche qualcos'altro nel senso non è che può stare fisso sempre così però evita di tenere lo sguardo in basso ok sguardo in basso zero nel senso quasi zero guarda qualcuno guarda qualcosa magari non so fai una qualsiasi cazzata non fissare troppo però sappi tenere lo sguardo di una persona va bene fare fatica inserisci qualche elemento piano piano poi altri elementi qualche battuta ogni tanto ti conviene farla meno che non tu non sia proprio un tuffo ok se non sai farle impara dagli altri altra cosa prendi dei modelli io consiglio sempre di guardare dei video dei politici perché perché i politici sono dei professionisti di solito di comunicazione c'è quello che urla e sputa c'è quello che alza la voce c'è quello un pochino più istituzionale anche troppo c'è quello un po ironico che che prende in giro c'è quello che spara pam 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 eccetera eccetera tu prendi dei modelli un modello un modello base che io consiglio è un politico che ora è fuori dalla scena però trovi in youtube in internet dei suoi video è gianfranco fini lascia stare le parti politiche che non ci interessano però lui è uno che sa sorridere un po ma sempre in modo garbato e composto sa tenere lo sguardo è sempre abbastanza fermo ma mai troppo chiuso a una buona energia un buon volume una buona mimica minimale ma semplice tu puoi essere riservato puoi essere ponderato calibrato anche avere un'autostima meno mille però puoi sicuramente comunicare comunicare come lui ok e lui era uno dei più bravi comunicatori non c'è bisogno di fare come che ne so berlusconi il potere di un grande sogno perché noi vogliamo il sorriso nelle persone non lo so mimare però per dire che era molto è lo so che voi insomma tutte queste cose qua ok ecco puoi benissimo prendere dei modelli prendi un un attore con le dovute calibrazioni perché loro sono troppo impostati se tu fai il viso da maschera a quello che fa un attore senza minima minima senza mimica diciamo così umana perché nei film deve essere così risulti un po strano però prendi degli esempi posso essere io può essere qualcun altro può essere chi ti pare io consiglio anche di personaggi famosi come gli attori se vabbè anche gli attori però un po meno perché sono troppo impostati ma come pollici perché trovi tanti video da mimare da copiare poi altra cosa scegli quale personaggio vuoi essere quando comunichi e piano piano diventa quel personaggio se poi ti vai bene come sei va benissimo non dico di diventare impostati schematici ma diventa la persona che vorresti diventare inizia ad esercitarti piano piano punto per punto nel diventare la persona che vuoi diventare nella comunicazione che vuoi creare ok anche io in questo video vedi sono molto calibrato sono tutte cose che tu puoi fare anche se sei timido anche se sei magari io parlo in modo vai che qui che papà ma a volte faccio cose un po riverenti le battute la mimica un pochino così provocatore eccetera perché devo intrattenere ma qua siamo in platea ok in un certo senso si parla di migliaia di persone che guardano eccetera eccetera tu mica per sempre mica devi stare sempre per forza non lo so lo stadio di san siro vicino a vasco rossi mentre parli a centinaia di persone migliaia decine di migliaia e più di persone parli con delle persone normali quindi poi anche essere un pochino più calibrato adesso per esempio ti sto parlando in modo anzi rallento anche un po posso parlare in modo che puoi riprodurre anche tu una mimica semplice rilassato e aperto ma con una buona energia lo sguardo abbastanza tranquillo puoi farlo anche un pochino più rilassato basta che non fai ciao sono il pesce lesso capito roba simile non c'è bisogno di fare io sono irriverente oggi vi insegno una cosa capito tutte queste cose qui poi anche direi la a pupa che fa e ho qui ha capito un po no non c'è bisogno neanche di essere iper maci ciao lo sai che oggi volevo chiederti una cosa e no non c'è bisogno di fare tutte queste cose qua puoi anche avere una comunicazione tranquilla puoi lavorare un pochino di più sull'autorità sul personaggio alfa nel senso calibrato tranquillo né macio né irriverente roba simile super umorismo cazzu insomma tutte queste cose qua poi se non sai cosa dire ti preparerai delle cose da dire va bene i politici leggono e sono le massime cariche dello stato tu potrai farti una specie di pianificazione di cose che puoi dire non so magari dei racconti te li prepari di fare le tue routine si chiamano come fanno i maghi il mago fa la routine numero uno magica carta routine numero due il dado routine numero tre la luce che ti incanta che cazzo ne so insomma tutte queste minchiate che fanno i maghi minchiata nel senso che non puoi farle diciamo quando parli con gli altri ma è spettacolo minchiate in quel senso tutto il rispetto verso loro che sono interessantissimi spesso quindi tu lavora sull'eliminazione di tutti gli errori di base perché quelli vanno eliminati comunque lavoro su una buona comunicazione un buon linguaggio del corpo mimando e copiando anche da tuoi diciamo così cosa posso dire tuoi tuoi modelli diciamo mi piace come si muove quello va bene allora cerca di imparare poi altra cosa impara piano piano delle tecniche di comunicazione efficace di linguaggio ipnotico impara a leggere il linguaggio non verbale degli altri perché ti serve tu puoi osservare interpretare il linguaggio di qualcuno sia che sei schivo qua che ci stanno le termiti porca miseria sia che sei schivo sia che sei introverso che sei distaccato è ovvio che se sei introverso distaccato eccetera sei troppo schivo e devi comunicare con qualcuno devi comunicare va bene puoi chiedermi delle consulenze per sbloccare questa cosa puoi leggerti dei libri su come essere un pochino più interattivo puoi guardare altri video esercitati piano piano non è che devi fare tutto subito quello che ti propongo un tutto subito tecniche così il monile trappola il laser target il non dico che questo quello l'ipnosi un casino va bene sono piccoli elementi che piano piano tu apprendi e assorbi importante che ti fai una lista di elementi che vuoi imparare gli eserciti ti galvanizzi ti diverti un po' nell'esercitarli non è che devi dire adesso esercito porca miseria spacco tutto no non è che devi fare così per forza nel senso divertiti vai che ce la fai no non c'è bisogno di fare così ti prendi una tecnica dice ok fare frasi più brevi tenere un volume ad un certo livello stare aperti rilassare tutte queste cose qua che ti fai una tua scadetta dei tuoi appunti da tutti gli altri miei video è inutile che ti ripeto e piano piano gli eserciti ti diverti come per dire caspita oggi ho avuto una postura un pochino più dominante più aperto occupato spazio ho gesticolato a livello di alla stessa velocità di quanto dicevo eccetera eccetera tanti altri elementi quindi lavora sul linguaggio del corpo l'interpretazione del linguaggio del corpo degli altri il linguaggio persasivo il linguaggio ipnotico la mentalità perché ti serve per fare prima importantissima sulle azioni che fai su quello che dici su qualche battuta da fare su come essere simpatico guardate allo specchio se c'è una risata che sembra il gioco era dopo tre chili di codeina va bene migliorati cioè usa lo specchio usa la telecamera usa la webcam usa quello che ti pare migliorati piano piano devi trovare il tuo stile lo stile che ti piace ok puoi anche fare quello un pochino più riservato ci stanno molti che sono schizzati che sono sempre così schivi però appaiono affascinanti nessuno sa che hanno 96 livelli di problemi iper psichiatrici come che ne so non che abbia dei problemi psichiatrici questo non lo so però Marilyn Manson si fa dei tagli in pubblico è tutto nero si mette il rossetto rosso lo smalto si veste la donna però cazzo Marilyn Manson milioni di fan potrebbe avere milioni di donne cioè per dirti che anche se hai degli eccessi utilizzali per creare il personaggio che vuoi diventare che poi impersonifichi quindi diventa spontaneo naturale e automatico una parte di te basta che ci lavori sopra basta che dice caspita c'è entusiasmo nel fare queste cose qua entusiasmo non è l'entusiasmo il coso nella vita no non devi fare questa roba qua non c'è bisogno puoi dire caspita oggi ho comunicato meglio che fighete che fighete capito insomma queste cose qua e te lo dici dentro puoi anche dirlo oggi mi rendo conto di aver comunicato meglio ne sono molto dietro se sei una persona così ok quindi non c'è bisogno di fare tutte queste cose spero di aver risposto ai dubbi di chi mi fa questo tipo di domande quindi se non ho risposto a qualcosa fai domande nei commenti commenta attraverso i commenti e praticamente più tu chiedi più cose chiedi e più io posso risponderti nei video quindi se tu contribuisci ai video nel senso mi dici guarda che potevi dire questo potevi dire quest'altro potevi qua poi io li riverso tutti questi concetti questi feedback nei prossimi video che faccio come questo che viene da un tuo commento dai vostri commenti e quindi se voi contribuite al progetto diventare strong a me alexonofri io poi ricontribuisco a voi e vi rifornisco altri elementi e per questo che vi consiglio sempre anche di cliccare mi piace di condividere oltre a commentare di iscrivervi al canale di seguirmi perché perché più queste cose hanno un seguito e più io ci dedico elementi più vedo che una cosa piace e più faccio video e più tolgo tempo da altre cose per queste cose qua quindi datemi supporto che poi questo supporto in realtà è per voi perché poi se io vendo le consulenze individuali telefoniche di persona a corse insomma tutte queste cose qua ma è anche vero che io non vi obbligo a fare questi corsi già con i video potete fare tanto poi è ovvio che se avete qualcosa di più specifico me lo chiedete insomma c'è una tariffa ma è normalissimo perché è il mio lavoro ma se voi contribuite al canale e ai miei social io e i miei social poi contribuiamo a voi perché tutto ciò che io prendo dal canale lo rinserisco se mi dito questo video non parla di abc poi farò un video nell'abc ma se voi non me lo dite io non posso farlo comunque vi saluto da questo diciamo video un pochino più colloquiale e ci vediamo alle prossime puntate struooom 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 struooom